Ma qua cabaret non ne fate? No, no, non ne facciamo Dopo un po' ne mandavo un altro Sarebbe bello se faceste cabaret Poi un altro Eh, no, cabaret mi piace Dopo arrivo io e dico Vi interessa uno spettacolo cabaret? No, vabbè Te l'hanno chiesto in tanto BSMT Passa dal basement Basement Bella raga, nuovo appuntamento Bentornati, nuovo Passa dal basement Sempre qui, sempre presenti Se ci state seguendo su questo canale Youtube in questo caso Se vi va e ancora non l'avete fatto Iscrivetevi Se ci state ascoltando su Spotify Alla grande Continuate a farlo Perché sta arrivando una puntata incredibile Ciao, io sono Gianluca Gazzoglia E sono sempre molto contento Quando ci vengono a trovare Degli amici da queste parti Quando vengono a trovarci delle persone Ancora di più Quando vengono a trovarci dei personaggi incredibili Perché io sono davvero onorato dal basement Oggi è passato Nino Frassica È lui, è lui Beccati tutto l'applauso Che aumenta Aumenta anche Pazzesco Si stanno alzando in piedi Pazzesco Hai notato? Hai notato? L'alzo L'alzo Sentiva l'alzo Grazie davvero Davvero un sacco Senti, io mi voglio iscrivere a Youtube Sì Allora, infatti Adesso, chissà cosa sta pensando Nino Frassica Mentre io dico tutte queste cagate all'inizio No, allora, basta andare sul sito Cioè, quando vedi il canale C'è scritto proprio iscriviti E clicchi su iscriviti E sei iscritto ed è gratis, peraltro Però Nino rimani affezionato alla cosa Non mi chiedono niente Non subito, diciamo Forse magari fra qualche anno qualcuno verrà a chiederci qualcosa Però questo è già un grande cambiamento Ma perché se non sono iscritto non posso vederlo? No, allora sì, lo puoi vedere Perché questa è poi la fregatura Perché molti guardano e non si iscrivono Non è carino Iscriviti vuol dire che sei iscritto Eh, che sei iscritto E si vede meglio anche Secondo me sì, si vede meglio Non sei iscritto, puoi mettere Allora, io aggiungo Porta fortuna Cioè, io ho sentito gente che non si è iscritta E a cui purtroppo poi sono successe delle cose brutte Si sta vedendo E non è iscritto Si deve iscrivere Per forza Io questa me la terrò Questa la userò proprio come Iscrivete Campionamento per iscriversi al canale Però vedi come Cioè, una cosa incredibile Che immagino appunto Quando tu magari partecipa a queste cose E devo Adesso non è che conta niente Però complimenti perché Sei tra i pochi Grandi personaggi Che capiscono anche che a volte cambiano Noi mezzi di comunicazione nel tempo Eccetera Io non è che sono così moderno Come pensi? No, però Ti fidi insomma Sì, sì, mi fido No, no, ho fiducia Aspetta Vai, vai, vai Non so fare non con la sedia Perché c'è una sedia di terra Perché è digitale C'è una sedia digitale C'è una sedia di una volta No, io pure Anche meccanicamente Sono Io sono L'ultima scoperta del tostapane Bene Ne sono successe cose Bene Cinque anni fa quindi No, di più Ne sono successe cose Beh, però Non devi essere tu per forza tecnologico O moderno Per capire che comunque il tempo è cambiato No, no, ma io mi fido E come si chiama in macchina Quando si sente la strada Il navigatore Satellitare Ok, è così Cioè io non è che mi spiego com'è Intanto ne usufruisco Mi piace che mi dice Delle cose Che dice tutto Ma non so come funziona Anzi È scopazzo Come fa a sapere La voce che devo girare a destra È incredibile È vero Ma ormai siamo abituati Non ci meravigliamo Questa come mille altre cose È vera questa cosa qui Quando mi è arrivato Questo tostapane Non lo guardavo Ma come faccio Io metto il pane Che è ancora crudo Certo E lo metto là E dopo un po' Esce tostato Ed è Sono molto meravigliato Sono tutte piccole rivoluzioni In realtà L'accendino Cioè C'è una cosa piccola Che tu schiacci È il fuoco È il fuoco E se pensi quelli all'inizio Con le pietre Invece che sbattimento Che si faceva Viva la scienza Bisogna credere Beh sempre Perché io sono uno Molto pro vaccino Ok Perché Sono ignorante Giustamente Come tu Beh su queste cose Sicuramente Me ne vanto Modestamente siamo Ignoranti Però sappiamo Abbiamo fiducia Perché hanno inventato La penicillina Mille cose Fidiamoci Vediamo che succede Questo lo penso anche io Per fortuna Perché non fidarsi Se non sai niente C'è gente Che non si fida Ma se non sai niente Che non ti fidi Tanto ti fidi Di chi già Abbiamo le prove Che la medicina È andata avanti Anzi Se non fosse per tante altre volte Che ci siamo fidati Probabilmente È come non comprarsi Il cellulare Dice no Non ci credo Non ci credo Che funziona Il cellulare Esiste Sì Mica devi sapere Come è fatto No no È vero È vero È vero Bisogna fidarsi Sono uscito fuori tema Di chi ne sta di più Non c'è un tema Quindi Il gancio è quello Infatti sono molto contento Anche perché Cioè quando Insomma Ho visto l'uscita Di questo libro Se vedi che io Dico cosa è troppo serio Divento troppo serio No ma va bene No Non mi piace Sare troppo serio Se vedi che sono troppo serio Mi fai il segnale Qual è? Fai dieci volte così Dieci Dieci volte Io capisco Con la spalla È il segnale Che sei troppo serio Sei troppo serio Cerca di Poi dieci volte Sono tante Dieci volte così Facciamo otto Vabbè 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 Allora Tornando sul Sul libro Sul tuo Romanzo Sul tuo romanzo Paola Paola una storia vera C'è subito Adesso Chi ci sta vedendo anche in video Perché questo è anche video C'è la cover Perché secondo me la cover è la cosa più Cioè la cover proprio La copertina è incredibile A volte uno compra il libro solo per la copertina Sì I fogli dentro li togli È vero è vero E in questo caso meriterebbe veramente l'acquisto Anche solo per la copertina Perché c'è Per chi invece ci sta solo ascoltando E non lo sa C'è raffigurata Una donna che ti somiglia Peraltro Quindi Paola è un po' È una coincidenza Sì Perché nel mondo Siamo 77 sosi Sì È vero E anche donne Non solo uomini E Paola Anche cavalli La faccia da cavalli Sì è vero Ci sono Quelli che assomigliano ai cani ci sono Eccomeno Quello è vero Questa è una persona che tu hai conosciuto Che hai trovato Questa è la Mondadori Ha detto A me serve in copertina Una donna di 60 anni E mi hanno proposto questa Che però Ho visto che mi Quasi mi somiglia E ho detto Va bene Va bene C'è anche un'app Che fa questa cosa Non è stata utilizzata Io no Sai sono altra Stapa Hai ragione Non può essere stata Non può essere stata un'app Però la cosa che Che mi ha colpito di più È la tram Se posso leggere Tanto è quello che c'è Non è spoiler C'è scritto Pappo nella Dentro Io ho fatto una cosa Figa Per non sapere Come va a finire Perché Sennò Tu sai come va a finire Ho strappo L'ultima pagina La strappo Ah Di tutte le copie Così uno non sa Così uno non sa Perché se sa Perché a me lo leggo a fare Hai ragione Giusto Questo romanzo È tratto da una storia Realmente accaduta Negli anni 80-90 In Sicilia Possiedo Documenti Fotoregistrazione Filmati che confermano Che questa È una storia vera I nomi dei personaggi Sono stati sostituiti Dall'autore Per rispetto Delle persone coinvolte E delle loro famiglie Insomma Roba seria Per volontà Di Mondatore Electa L'età dei personaggi Femminili È stata aumentata Di anni 10 Invece L'età dei personaggi Maschili È stata abbassata Di anni 2 C'è un motivo Per questa scelta Non ho deciso Io La Mondatore Ha voluto fare questo A volte sono delle regole In che libri Comunque da questo libro Verrà anche tratto un film Leggo Il protagonista Sarà il soldato Carlo Mai citato nel romanzo Se tu leggi il libro Non c'è il soldato Carlo Però nel film ci sarà Incredibile Interpretato da Luca Marinelli Quindi si sa già Anche chi è l'attore Nel film Elisa Detta Eli La fidanzata di Carlo Anch'essa mai nominata In queste Neanche lei c'è Non la trovi Però il libro Non dovrebbe parlare Di cose Cioè il film Non dovrebbe parlare Del libro Il regista È interpretata Isabella Ragonese Interpreterà È una bella coppia Sì molto molto La regia sarà di Matteo Garrone Che ha deciso di togliere De tutto il personaggio Di Paola Cioè Paola non c'è Di solito Non può fare l'adattamento Sì sì Il film sarà girato Integralmente in Puglia Le riprese inizieranno Il 6 La produzione Non ha ancora deciso Il mese È giorno 6 Se tu chiedi Non hanno fatto il contratto A Marinelli A Ragonese Ma loro hanno chiesto Che periodo è Dal 6 Dal 6 Comunque Non si sa Se è gennaio Lugio Però loro hanno accettato Lo stesso Anche se sono attori Di un certo calibro Già hanno accettato Anche senza sapere il mese Il regista è Matteo Garrone Hai ragione Scherzo Titolo provvisorio del film Questo non me la conta giusta Matteo Garrone Intervistato da Ciak Ha detto Sono indeciso Se portare questo film A Festival di Berlino O andare al matrimonio Di mio cugino Tommaso A Torino Succede Che tu Sono scelte Delle carriere Per andare a Sanremo E c'era la comunione Di mio nipote Ma che fai Che fai Sono andata alla comunione Prima viene la famiglia Giusto Quindi chissà Garrone Alla fine cosa deciderà Comunque sono contento Per la scelta Certo Ma quindi Il romanzo di cosa parla Cioè qual è la trama Del romanzo Invece Il romanzo parla Che non c'entra niente Col film tratto dal romanzo E' lui che non vuole Che fa il film Che non c'entra niente Però il libro c'è Certo E la storia di Paola E' una donna Come tante altre L'unica cosa C'ha qualche cosa curiosa C'ha il cognome Per esempio Si poteva chiamare Rossi Si chiama Prestigiacomo Venturi Maior Di San Vittorio Ange Complesso Infatti Nell'ultimo Tecnicamente Come si chiama questa La quarta La quarta di copertina E' la foto del citofono E' il citofono Dove il cognome Come effettivamente non ci sta No ma poi Questa targhetta dà fastidio Io sono andato a vedere La casa Ah perché è vero Essendo storia vera C'è la casa E dà fastidio E' questa cosa lunga E certo I bambini si mettono là Sì è scomodo Poi devi trovare anche una casa Che abbia lo spazio A fianco Per poter Un pezzesco Incredibile E parla di questa donna Che Diciamo Alla quale Ne succede Succedono tante cose Il periodo della scuola Il periodo del primo fidanzato L'amore La vecchiaia I parenti La famiglia E lei E' una donna umile Una brava ragazza Ed è povera Già Parte che è povera Poi diventerà ricca Però E' povera Ma questo semaforo è sempre verde Perché hanno fatto E quindi poverino Quindi poverino Insegue le macchine Per lavare Quanto guadagna questo uomo? Eh pochissimo La madre fa il falegname Fa il falegname Il falegname E però In un paese di 2000 abitanti Ci sono 1200 falegnamerie No Cioè un semaforo Ma 1200 falegnamerie Veramente strano Di 2000 abitanti E il sindaco Che è una persona precisa Il sindaco di Avona È un paese In provincia di Messina Sì Il sindaco ha detto Noi siamo 2000 Un paese di 2000 abitanti E vuole Che sia sempre 2000 Infatti quando nasce un bambino Fa ammazzare uno No Ma è una roba terribile Diventa 2001 Sai Poi dopo E' brutto E' brutto da dire E certo Tu non puoi più dire 2000 E quindi è costretto Scelgono naturalmente Più anziano Cioè potrebbero mandarne via qualcuno No Decidono proprio Di Ammazzano E' più comodo E' più comodo E poi succede tantissime cose Tantissime Ma come si Cioè che genere è questo romanzo E' la vita di una donna La vita che c'è Racconta Ognuno di noi si può anche sentire Un po' Paola Chi non ha un padre la va a vedere Qualcuno ci sarà Certo Ma posso chiederti In che momento Ad esempio Della tua vita Ad esempio Nel caso di Paola Ti viene in mente Una cosa di questo genere A me Posso rispondere seriamente Poi tu mi fai segnare Che sono troppo serio A me L'idea è venuta Leggendo un libro Di Ugo Pirro Che parla di come si può scrivere un film No? Che prendeva esempi E lui dice Può bastare Che tu vedi Uscire da un portone Una donna di corsa Un uomo Un uomo di corsa E dice Ma questo qua Dove sta andando? Perché corre? Da dove va? Dove viene? E mi metto Lo dico io Sta andando Perché c'è È arrivato il marito All'improvviso Non lo so Tante possibilità Ne invento una Scrivo, scrivo, scrivo E poi diventa un film Cioè In realtà Basta uno spunto Ok Allora ho detto Siccome avevo fatto altri libri Che Comici, umoristici Però Dove raccontavo Le cose che faccio in televisione Quasi sempre è stato Uno sfruttamento Delle cose televisive E le raccontavo in un libro Allora ho detto Perché non provo a fare io La storia La storia pure io Parto col nome Paola Ma è venuto Non so perché Non c'è nessun motivo Paola Ho scritto Paola Sul foglio Paola Era il titolo Poi dopo dice Come si chiama Di cognome E mi sono venuto E tutti i tuoi personaggi Dove abita Che fa Ero io a riempire il vuoto E fino a Poi a un certo punto Fortunatamente ho trovato il finale Perché se no diventava Un libro di 6.000 pagine Cioè Non c'era una chiusura Non si sapeva dove andare a fine Ho detto Adesso mi fermo E ho raccontato Molte cose che succedevano a lei Di tutto Ok E quindi però Quella cosa che consiglio È di leggerlo Cronologicamente Cioè di seguire il numero Perché se Gli altri libri In realtà Potevi anche saltare Diceva Qua parla di televisione Qua parla di Ok Qua invece è proprio Una storia vera e propria Come si leggono i romanzi Non puoi Un film Ti perdi i pezzi Al quarantesimo minuto Certo La tentazione viene Uno vede un titolo Che cos'è La visita in carcere Quindi consiglio seriamente Di leggerlo Beh è un romanzo Diciamo che un romanzo Di solito va letto Dall'inizio alla fine In ordine cronologico Allora la prefazione L'ho chiesta a Valerio Infatti ho visto Tra l'altro A Valerio Lundini Poi però ho detto Caspita Però mi piaceva Se me la faceva pure Maccio Se me la faceva pure Maccio Non sapendo che fare Ho detto Maccio mi scrivi la prezfazione La prefazione del prezzo Perché tutti parlano Del libro La prefazione a che serve Ti parla Ti spiega un po' Ti anticipa un po' il libro Però del prezzo Ah Quindi prezzo sta proprio per il prezzo Lui ti spiega un po' il prezzo Ti spiega il perché del prezzo Ah sì sì ho visto Ovviamente non sono due a caso Nel senso Lundini e Maccio Tra l'altro Valerio è anche passato di qui È un amico E abbiamo parlato anche di te Durante la chiacchierata Perché è nel fantastico mondo Non della televisione Ma appunto tra comici e umoristici O umoristi Siete molto associati Nel senso che Infatti io ricordo Con Valerio avevamo proprio citato Una volta che aveva pubblicato Non so se Maccio o Valerio Una foto in cui eravate tutti e tre insieme Tu Valerio e Maccio Ed è come si dice in gergo Esploso l'internet Nel senso che tutti sono impazziti Per vedere voi tre insieme Due generazioni e mezzo Esatto Perché Valerio è più giovane di tutti Sì Poi c'è Maccio Poi differenza di dieci anni Io immagino che Che per loro Ed è stato detto più volte Tu sia un maestro di questa cosa 20 anni Valerio 30 Maccio E 40 anni Qual è la cosa che vi Qual è la cosa che vi unisce? Ma ridiamo delle stesse cose Il gusto Somiglia Io ogni tanto faccio una prova Con Maccio e con Valerio Dico Ma quel comico di far ridere È equivale Al sì o al no Al mio Ok Avete gli stessi gusti E poi Diciamo Non siamo in tanti Che facciamo questo genere Alla fine C'è Massimo Bagnato Un altro surreale Però Lille e Greg Che però a volte sono anche classici E surreale Sono bravissimi Però un genere così folle C'era Marenco Ma non c'è più Ma non siamo tantissimi Manalizzo Milano Manalizzo Milani Sulla carta Ma anche come comico Però è un genere A me ha sempre fatto Molto molto ridere E negli ultimi anni Nel senso Mi sembra che Sia ancora amplificata Questa cosa Cioè è come se Fosse diventato Non dico Lo stilo omoristico Esatto Più di moda Era quello che volevo dire Mentre all'inizio Era visto come Ma vuoi far ridere questa cosa E invece adesso Ci si riconosce Per quello per cui si ride Molti anni fa Mi sentivo quasi solo Ok C'era Lilia Greg Poi invece visto Io mi ricordo Valerio Lui faceva il backstage Di una sitcom Che ho fatto Con Paolo Calabresi Per Rai 2 E c'era Valerio Che faceva il backstage Però diceva delle cose Io stavo a sentire Pensavo Perché lui Seriamente Diceva delle cose Mi facevano ridere Ma che sto qua Come si permette Di farvi ridere Poi mi ricordo Che mi ha intervistato Mi chiedeva una cosa Poi lui si allontanava E io non riuscivo più A dire Perché mi stavo intervistando Lui si allontanava E ho detto Questo è forte Ho voluto conoscere subito Infatti io facevo Programmone alla radio E lui ha detto Se veniva E è venuto subito Infatti Sono molto contento Che stiamo facendo Questa chiacchierata Perché è una cosa Che avrei voluto fare Da tantissimi anni Perché come ti dicevo Prima in realtà Noi ci siamo incrociati Almeno io ho incrociato te Quando ero anch'io a Radio 2 Facevo un programma Un programma lì E io mi divertivo Un casino Siccome c'erano Le fasce orarie Abbastanza vicine In alcuni casi E arrivavo apposta Prima in radio Perché sentivo Le gag Le cose E mi faceva veramente Un sacco ridere Ci eravamo incrociati Perché giustamente Era in via Siago a Roma Io ero qua a Milano E quando capitava Di venire giù E vedevo te Ero sempre molto Molto colpito Perché Cacchio Mi ricordo Avevi sto maglione qua Lo stesso Pazzesco La cuffia è quella Sì Ma io vado sempre in giro Così tra l'altro Però ero incredibilmente Affascinato Proprio perché a me Quell'umorismo Mi ha sempre fatto Un sacco ridere E adesso Secondo me Internet ha aiutato Questa cosa qui Perché come dicevi tu Forse era Mi sentivo solo Adesso invece Tanta gente Capisce Che ride per le stesse cose Ed è diventato Ancora più Più grande Penso Non lo so È un gruppetto Molto Molto forte Sì Tanto leggevo L'altra cosa molto bella All'interno del libro È la tua Biografia Mi permetto di leggere Leggi il fuori Perché così mi faccio credere Di averlo letto No perché se no Non posso spoilerare dentro Però qua per agganciarmi Al tuo percorso Perché qua dice Nino Frassica È attore Cioè se sbaglio Qualcosa Se dico qualcosa di sbagliato Correggimi Nella mia c'è Nino Frassica è attore Comico Presentatore Scrittore Showgirl Ha esordito In storica trasmissione Come quelli della notte Indietro tuta Per poi diventare L'amatissimo Maresciallo Cecchini Della fiction Don Matteo E ancora Il direttore Vice direttore Della rivista Novella Bella Nella trasmissione Che tempo che fa Dice di aver paura Degli aerei Perché da bambino Un aereo L'ha morso Confermi questa Sì Ha scritto diversi libri Biglietti di auguri Appunti su tovaglioli Cartoline Ma questo È il suo primo romanzo Esatto Mamma mia Quante cose che hai fatto Comunque Sì Ma però Sai che non ho fatto I fotoromanzi No Niente Però li hai incrociati Lungo la strada Non ho mai voluto Quali erano i requisiti Per fare i fotoromanzi Forse perché mi muovo La fotografia viene mossa Però L'altra cosa Che mi colpiva molto Era proprio questo Che tu Hai visto proprio Tutta l'evoluzione Della televisione E un certo tipo di televisione L'avete inventata voi Nel senso Ecco Una cosa di Biasiago Che a me colpiva Quando venivo giù A Roma E se capita Qualcuno Che riesce a andarci È un museo Un museo nel senso buono Nel senso che giù A differenza che Gli studi di Milano Che sono un po' lasciati andare Quelli O almeno all'epoca Magari se li hanno rifatti Quelli di Roma Ti rendi conto di entrare Nella storia Nella radio E poi successivamente La televisione Ci sono Ci sono tutte le fotografie C'è una fotografia Di Maurizio Costanzo Senza Baffi Che io non credevo Fosse possibile Però ai tempi Con Gianni Boncompagni Eccetera Erano proprio agli inizi Tu C'erano foto Senza Maurizio Costanzo C'erano delle foto Dove non c'era proprio Davvero Però non erano tantissime C'erano altre Però si faceva Registrata E la faceva Arbore Boncompagni E Mario Marenco Perché Bragardi In quel periodo Non andava tanto d'accordo E si è creato Sto buco Arbore Che mi aveva conosciuto Attraverso La segretaria telefonica L'aveva fatto ridere Quella cosa lì È molto particolare È vera L'avevo letto che L'avevo fatto ridere Ma come è andata Tu volevi cercare Avevi visto che Io capivo Che Ero sintonizzato Con alto gradimento Con loro Da spettatore questo Da pubblico Sì Ma anche come custo Sì sì certo Le radio private Un po' somigliano Cioè non sono andato A bussare a Pippo Baudo A dire Sono di Messina Tu sei di Catania No A Corrado Non so chi c'era all'epoca No io sapevo Che Chi mi poteva Aiutare E capire Era proprio Arbore Perché facevo Ero arboriano Senza che lui lo sapesse E quindi Più che Invece di chiedere Voglio fare Non ho mai chiesto Perché Sai che Anche se la parola stalker Non si usava Ma non mi piaceva Facevo lo scocciatore Diciamo Non lo volevo fare E allora Non chiedevo niente Facevo un messaggio Lo facevo ridere E non dicevo Né chi ero Né chi ero Messaggi in segreteria Ma uno misterioso Cioè per lui Ma chi è questo Cioè tipo cosa dicevi Nei messaggi Pronto ciao Sono un mio ammiratore Sono un mio ammiratore Sono un mio ammiratore Al tre stacco Tre E staccavo Che cavolo è Pronto Pronto Ah non ti ho trovato Vabbè diciamo domani mattina Alle quattro Tu gli lasciavi questi messaggi In segreteria Lui rideva Mi raccontava Che sentiva Questo è un curioso Perché all'epoca Arrivavano molti messaggi Molte cose Però tutti A chiedere Io non chiedevo niente Poi dopo Se no erano inutili Certo Dopo un paio Di questi messaggi Diciamo frassica Il mio numero di telefono È questo Sono di Messina No era Serio Diciamo E lui mi ha chiamato Ma dai Comunque è una tecnica Molto bella Sì C'è il trucco C'è la strategia C'è Cioè lo hai colpito Non hai fatto Perché molti vanno a sfinimento Iniziano E crei anche un'antipatia Sì Invece Mamma mia Già io lo faccio pure io Ti capita Mamma mia Questo Ok Ok Ho cercato di non fare E in quel caso Quindi lui ti chiama E che cosa Mi chiama Dice se ti trovo a passare da Roma Mi viene a trovare Io Guarda caso L'indomani Mi trovavo a passare da Roma Perché a volte La vita è incredibile Ma come si fa Allora Ci siamo visti Io non stavo facendo niente E allora Sai La prima cosa che mi ha detto Mi sembra il napoletano Questa è la cosa che mi ha detto A me mi ha fatto piacere Perché Certo Voleva dire simpatico In fondo era sinonimo di simpatico Poi ho detto Guarda sto facendo niente Però È forte Se faccio qualcosa Sono sicuro che ti chiama Ma guarda Ma squadra Per vedere Forse se ero un pazzo O un uco Anormale Anche timido Abbastanza Non ero quel folle Va bene Dopo Lui non ha fatto niente Quando è tornato alla radio Si è ricordato di me Grazie pure al buco Al buco Bragardi Che erano Di solito lavoravano i quattro E non c'era Quell'anno C'era Franco Bragardi Sì Ma Giorgio Non c'era Le faresti due rubriche Ha fatto le rubriche Dentro il programma E poi l'anno successivo Altre due rubriche L'estate successiva Poi c'è stato un anno Ho fatto sia Due rubriche per me Più Come autore Scrivevo una cosa Per un'attrice Ok Poi quando lui è tornato In televisione Ha detto Vieni qualcosa Sei della squadra Qualcosa la fai Sì Infatti sapeva Che cosa avrei fatto Però Lui fa al contrario Di come si fa Al teatro Al teatro Tu metti in scena Giulietta Romeo Allora fai Giulietta Lo facciamo fare Isabella Ragonese Romeo Alessandro Borghi Ok Poi Iaco Non c'è Iaco In Giulietta Romeo Nell'hotello Vabbè Cioè tu scegli Prima Gli attori Che possono fare Quella Scegli No Parti dal personaggio E trovi l'interprete Arbore Nelle sue trasmissioni Noi facevamo invece Il contrario Aveva gli interpreti Mi piacciono questi Che fanno questi Quindi Allora Questo gli facciamo Per questo Lui aveva la squadra Senza un ruolo preciso Ma il personaggio Che poi decideva Io ho fatto il frate Ma l'hai deciso tu Il frate È sempre stato Arbore C'è stato Arbore È Ugo Porcelli Perché io Quel giorno Sono andato Con un maglione Un maglione Di ferreo Si può dire Si 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 Con un maglione Marrone Così Questi baffi Lunghi Degli anni 80 Grossi Grossi Beh che può fare Un frate Un fratacchione Lo faresti Un frate Qualsiasi cosa Mi dicevano Io dicevo Certo Beh ovvio Anche se non sentivo bene Dicevo Si si Dicevo Fai Il poliziotto Si Allora Che ho fatto Questa cosa Che è figa Cioè io Quando mi ha detto Il frate Io sono tornato qua in Sicilia E sapevo che Dovevo fare sto frate Mi sono messo Una telecamera Una telecamerina davanti No Una telecamera Mi sono messo Fesso così Con la sedia E ho detto Sono il frate E parlavo con la cosa Ho fatto Un delirio Di 45 minuti Perché la cassetta Era di 45 L'ho finita tutta Dicendo Sono una cosa Ho fatto questo E dicevo cosa Facendo finta di essere un frate Sì Parlavo da frate Ma senza niente scritto Che ho fatto Io al contrario L'ho rivista la cassetta Che purtroppo non la trovo Mamma mia Un reperto incredibile La pagherei oro Però Sa dove l'ho buttata E io prendevo Questa cosa fa ridere Questa cosa qua È una cazzata Non fa ridere Questa fa ridere Questa fa ridere Se modifico E mi sono fatto Da un delirio Un suggerimento Ero io stesso Filmato Che suggeriva a me Che prendeva appunti Che cosa avrei potuto fare E mi sono fatto Un piccolo repertorio Il concorso cuore d'oro I premi in paglia E ho fatto Ero pronto Carico Facendo la crema Le cose più belle Più divertenti Di quello che avevo detto In quel nastro Era già Potevo Ed è l'istinto Che ti ha detto Di fare questa cosa Cioè nessuno ti ha detto Prendi una telecamera Registrati E guarda Io ho pensato Un trucco Come posso fare Che scrivo Invece di scrivere Invece di scrivere Ho fatto questo sistema qua Ok E poi è venuto fuori Il personaggio E poi è venuto fuori Poi è venuto Poi lo alimentavo Scrivevo cose nuove Inventavo Improvvisavo E quindi E là è nato il frate E lì poi appunto La storia Nel senso che poi Sono successe un sacco Di altre cose Che ricordi Hai di quegli anni Diciamo Che erano Occasioni Di improvvisazione Che non succede spesso Cioè Il programma in quel modo Non succede spesso Sono sempre Scritti Molto scritti Molto comprovati E quindi Vengono un po' Diciamo Si perdono di naturalezza Però Nessuno è mai riuscito Nella storia A rifare quella cosa C'è stato un tentativo Di Canale 5 Ho fatto Televigio Un programma Infatti mi ricordo Mi hanno chiamato E allora l'ho fatto E ho chiesto Caspita Somiglia A indietro tutta Ah certo Non era dichiarata Come Sì Volevamo fare Metteva una specie di ragazzi Con qualcosa Somigliava E E E ho detto C'erano i testi Che non erano macco brutti Però era Si recitava con i testi Si può fare Invece voi lì Non avevate Poi niente Quel tipo di televisione Arbor lo dice spesso Si fa Avendo gli attori Che sono contemporaneamente Anche autori Che sanno improvvisare Non è un attore Perché è bravo Un attore bravo Che ci fa C'è Maria Volontè E che fa Sono attori Che sanno recitare Bravi Bravissimi O il copione Ti fanno bene Però Non sanno improvvisare Non sanno inventare Poi li vuole Con quel filo Di follia Arbore E quindi Non va affatto Come ha provato A fare Canale 5 Ed è questo il motivo Per cui nessuno È riuscito a rifare Qualcosa del genere Ci sono cose Alcune cose Della Jalappas Ci sono delle cose Diciamo Beh sicuramente È stata un'ispirazione Ma sono rare Diciamo sono rare È stata sicuramente Una grande poi ispirazione Per tante altre Ma loro confessano Per esempio Jalappas Confessa Che loro Somiglia All'altra domenica Quando loro Parlano Con i personaggi Lo feceva Arbore Con Benigni Con Marenco Ok Però 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 Ha funzionato Cavolo No no Ma è stata un'altra cosa Incredibile Che però Ha trovato Magari è partito Con quell'ispirazione Ma poi ha trovato Una sua identità No ma poi Aveva trovato Forti personaggi Aldo Giovanni Giacomo Mister Forest Ma oggi Per quella che Per com'è oggi La televisione Ma non più Televisione basta Perché oggi Non si può parlare Di intrattenimento E parlare solo Della televisione Credi che possa Ancora esistere Un qualcosa Del genere A livello di Di spontaneità Di cambiamento Anche delle regole Perché poi Quello ha cambiato Anche delle regole Ma sì Esiste Ci sono degli esperimenti C'è Barstella Per esempio Quello di Stefano De Martino Sì Ho sentito Che dicono Che si ispiri Un po' Si si ispira Naturalmente Avendo Herbert Ballerina È perfetto Per esempio Se ne avesse Un po' di più Herbert Ballerina Già cominciamo A salire Di Ci sono altri comici Però Non sono tanti Comici Capaci A improvvisare A fare Una comicità Così forte Come quella Rimane Il timbro Barbare Tanto è stato lui Beh quella cosa lì Rimane Tutti il resto E tra l'altro appunto Stiamo parlando di una cosa Che è successa Tanti anni fa Eravate in tanti In realtà Esatto Eravate in tanti Nell'85 A fare questo Però non tutti Sono riusciti poi A avere Una carriera importante Come l'hai avuta tu Come l'ha avuto Magari qualcun altro Per molti anni Sì però Sì sì certo No chiaro Però anche lì Non proprio tutti Quindi c'è un qualcosa Che tu ti sei spiegato Sul perché Tu sei riuscito In tutti questi anni Ad avere Una tua identità forte Perché sono qualche scientifico Un po' C'è studio Io ho fatto Per un po' Ho seguito Diciamo Ho sfruttato Quel successo là Però per esempio Non ho più fatto Il frate Non l'ho più fatto Volutamente Per non stancare Rimane Il ricordo di quel frate Se lo facessi ora Non farebbe ridere Come allora Rovinerei il ricordo Che cosa mi ha insegnato Arbore Quindi non mi conviene Ritornare sui passi vecchi E cercare di fare Cose nuove Come è stato subito dopo Il bravo presentatore Era completamente diverso Dal frate Ed è stato Stessa comicità Stesso stampo Ma Era un'altra cosa Ed è stato Arbore A darti questo consiglio E quindi di cambiare Poi ho avuto la fortuna Di quando avevo dato abbastanza Come comico Sulla stessa Improvvisamente Se non forse Mi sarei dovuto fermare Qualche anno prima Però è arrivato poi La fiction E certo Facendo la fiction Allontanandomi Dal varietà Allontanandomi Dal varietà Ero più prezioso Ero meno Meno sovraesposto Perché facevo un'altra cosa Un altro personaggio Un'altra cosa Totalmente diversa Nel caso Don Matteo è stata la prima Fiction Avevi già fatto Sì Avevo fatto altre Però quella importante È stata quella Era il 2000 È andata in onda Facendo la fiction Ricordate che mi devi fare il segnale Hai ragione No ma invece a me piace molto Quindi ho la spalla Proprio ferma Facendo Che stavo dicendo Che stavamo parlando della fiction Che no L'allontanamento Dal varietà Per un periodo Poi dopo Mi ha accorteggiato Gambretti Sono andato alla 7 Allora Perché il desiderio Del varietà Ce l'avevo sempre Anche nonostante Quasi avessi cambiato mestiere E quindi ho continuato Poi Fazio Altri Carlo Conti Mi hanno ricercato E mi hanno chiesto E sono tornato Dal varietà Facendo Anzi Faccio tutte e due le cose Adesso È bello perché poi Negli anni Quando uno cresce La carriera va avanti Nel tuo caso Magari alcuni comici Come dici tu Che magari Rifanno sempre Gli stessi personaggi Eccetera Magari iniziano ad avere Cioè un termine Che si usa tanto oggi È cringe Cioè che diventa Un po' una roba Un po' imbarazzante Invece nel tuo caso È diventato No ma poi il tuo È diventato Proprio uno status Cioè Nino Frassica È riconosciuto Con uno status Da legend Adesso insomma E quindi È la mia ammizione La mia ammizione È quella Nella maschera Non essere un attore Bravo Un uomo preciso Quello è frassica Come c'è stalle olio Con le due proporzioni Come c'è stalle olio Sempre stalle olio sono Per sempre Totò L'ultimo della fila Però in quella fila No però esatto Ed è dovuto proprio Anche delle scelte Che uno fa Nella carriera Credo Tu sei diventato Troppo serio Ah quindi il segnale Vale anche per me No però È forte perché Cioè io sono rapito Così come tutte le persone Che ci stanno ascoltando Perché sono storie Che poi Di grande ispirazione Perché anche se I tempi sono cambiati In tante cose Ci si può ritrovare Cioè oggi Io me lo immagino Il ragazzo Che non sa come andare A cercare di attirare L'attenzione dell'arbore Della situazione Sapere che tu La tua storia parte Da una cosa di questo genere È fortissimo Comunque Io Penso che Conti molto Nel nostro lavoro Sapere anche Fare public relation Strategie Trucchi Servono Anche quello Perché se uno è bravo E sta a casa Non lo chiama nessuno Se uno è bravo Qualcuno lo deve notare Adesso c'è YouTube Ci sono i mezzi Che però è comunque Un altro modo Però nella mia generazione Non c'era Non c'era YouTube Non c'era Internet Per cui Come faceva Arbora Conoscere Io guarda cazzo Andavo a beccare L'unico mezzo Che era la segreteria telefonica In un nastro Dove era una cosa di 5 secondi 10 secondi Avevo forse inventato Come si chiamano le pezzette Sì sì però È esattamente Le stories di Instagram Da tu era Quel messaggio in segreteria Perché è vero La fortuna di oggi È una cosa che dico sempre Anche io Se uno è bravo si vedo Sì però non basta In alcuni casi Perché la mia generazione Dico sempre Cioè chiaramente Magari è nata In un certo periodo Sono stati un po' di crisi Un po' di robe Però c'è Internet Che è una risorsa Incredibile Dove tutti sono raggiungibili E la mia idea Anche a me è sempre stata Cioè nessuno verrà mai A casa mia A bussare alla mia porta Sei tu che devi bussare Alle porte degli altri Questo è obbligatorio Io mi ricordo I miei primi spettacoli Di cabaret Sai come li facevo? Come? A Messina Non si usava Questo cabaret Però c'era una discoteca Che andava forte E nel resto d'Italia Specialmente al nord Nelle discoteche Si faceva Il cabaret Si entrava Non c'erano solo i teatrini C'era un'occasione Dove c'era gente Si suonava La musica Poi si fermava Un po' di cabaret E poi riprendeva E Messina Non si usava Io allora Ho fatto Avevo un bel po' di amici Ogni tanto Ne mandavo uno Dal direttore Scusate Ma qua Cabaret Non ne fate? No no Non ne facciamo Dopo un po' Ne mandavo un altro Sarebbe bello Se faceste cabaret Poi un altro Cabaret Mi piace Dopo arrivo io Dico Vi interessa Un spettacolo cabaret? No vabbè Te l'hanno chiesto in tanti Ma è una mossa geniale Allora Eri tu che avevi mandato gli altri a chiederlo A me è piaciuto Non ti soccionare la telecamera Lui mi ha detto Ma quanta gente è venuta a chiederlo Sì Ma hai detto sì Perché aveva Ho creato La domanda E poi E io avevo la risposta Ma a proposito Perché poi conta molto Da dove poi arriva Come era Messina In quegli anni In cui tu volevi fare questo Di mestiero Comunque nella vita E provincia Non è che era C'erano le pecore per strada Era moderna Ma con le dute Così In cinema c'erano I teatri c'erano Però io volevo fare il cabaret Perché il teatro lo facevo Il teatro dialettale La prosa la facevo Però il cabaret Non si usava ancora E quindi Un po' mi creavo E poi sono andato bene Dopo quando mi ha fatto fare A pochi soldi Quindi l'ho fatto più volte Poi ho cambiato per il locale Mi hanno chiamato Quindi ha funzionato Hai creato tu un movimento Praticamente E la tua famiglia Ti supportava all'epoca? Mi guardavano Dice Che fa questo Conoscendomi Sapendo che non ero un pazzo Che non ero Non ero un pazzo Ero normalissimo Che vuoi farci l'attore Non manco lo dicevo Che facevo l'attore Quindi mi controllavano Se facevo delle follie Ma non l'ho mai fatto Per cui È andata bene Vediamo che fa Certo E invece Don Matteo Com'è nata? Quando è nata L'occasione di Don Matteo? Don Matteo è nata Perché io avevo fatto Dei film di Vanettone Cine Vanettone Per motivi Che però anche quelli Sai che negli anni adesso Uno di qualcosina No Ok Onestamente La verità La verità La verità Che il panettone C'è il La sorpresa La sorpresa Del luogo Il soldino C'è si fa Alla fine si fa E lui aveva Oldoini Il regista Di Don Matteo Aveva notato Che io non è che ero Solo a macchietta A storpiature Ne ho fatte male Tante Storpiature In realtà sapevo pure recitare Quando hanno pensato A Don Matteo Intanto hanno fatto Il mio nome I cervelloni Della Raia Del periodo Sì ma figura Di quello Perché il ruolo È importante Del maresciallo Quindi dovevano Scegliere Chi faceva Questo maresciallo Magari quelle Pensavano Che io Storpiavo Che sapevo Solo storpiare Le parole Che sa Che idea Si erano fatte Perché uno Storpia Non sa recitare E quello Era un trucco La storpia Dove un trucco Per arrivare subito Per fare la facile Ma poi O sa recitare O non sa recitare E lui ha detto Ma date Che cosa sa recitare E mi hanno Quasi preso Proprio per volontà Infatti io ringrazio Di più Perché ricordo io Non tanto Perché lui ha insistito Lui ha insistito Sì sì Guarda che questo qua E E quindi Poi io ho fatto E' venuto bene Eccetera eccetera Beh tu immaginavi Che sarebbe stato Un successo Di questo livello Perché credo Che sia stata La cosa Di maggior successo Degli ultimi anni Si capiva Sapevamo che lui Terenzile Era molto amato Questo lo sapevamo Perché si vedeva Però era amato Per una cosa Completamente diversa Ma è rimasto Quell'amore È rimasto Perché noi Abbiamo un pubblico Sì abbiamo Pure i giovani Però lo zoccolo duro Sono belli quelli là Che conoscono Terenzile Dall'inizio Quindi noi partavamo Avvantaggiati Che avevamo Il capo era lui Poi hanno scoperto Pure me Flavio E gli altri Però noi partivamo Il capo fila Era lui Terenzile E noi andando appresso A lui Abbiamo goduto Poi Dopo la prima serie Visto che l'ho fatto Perché la prima serie Era un maresciallo Che stava in mezzo Al prete E alla caserma Ma l'avrebbe potuto fare Qualsiasi altro attore Quando l'ho fatto io Gli ho dato Un'impronta Torniamo All'impronta Frassica E allora Già cominciamo Mi hanno messo Una moglie Mi hanno messo Le figlie Mi hanno fatto Mi succedevano delle cose Fuori dalla caserma C'era un po' di quotidiano Dove si può fare meglio La commedia Perché quando fai La zona lavoro Caserma Che ti vuoi inventare Ti devi fare interrogatorio Cosa puoi Dove è la commedia Dove si trovava A giorno Non c'è commedia Invece nel quotidiano Si La figlia Che si scappa Allora Allora Cioè è entrata Molto più forte Alla seconda serie In poi La commedia Perché la gestivo io Assieme a Flavio Poi assieme al capitano Quelli che mi Hai anche Potere di decidere Le cose Adesso Prima sembrava Apparentemente Un invadente Quello che porta Quello che si vuole Allargare la parte Invece io lo faccio Per il bene Del tanto Del personaggio Sul campo Mi sono guadagnato Diciamo Una cosa che posso dire La mia Anzi Ci sono giorni In cui Facciamo una scena Molto spesso Il regista dice E qua Che dici Che facciamo qua Metto una botta Quello che ho imparato Nel varietà Nella comicità Lo uso anche Quando faccio La torre normale I trucchetti Ne conoscono Per far ridere Una gegga Cosa Un tipo strano Cioè So corredare E quindi Ci metti anche Del tuo Perché dopo tutti questi E poi dialoghi Sempre Dialoghi È normale Perché il linguaggio Scritto Sceniciatura Anche quelle belle Sceniciature È sempre Una cosa Su carta Scrittura Scrittura Capito Invece per passare Dalla carta Al parlato Dal linguaggio scritto A quello parlato Deve mettere Deve cambiare qualcosa Deve sporcare E lì Quanto dura Ad esempio Una stagione Voi cosa fate Vi trasferite Per fare Nove mesi Nove mesi dura Mizz Veramente un parto A tutti gli effetti Però facciamo 20 episodi Da un'ora Noi abbiamo Abbiamo battuto Già Derrick La signora in giallo Per numero di episodi Per numero di episodi Noi abbiamo Superato 260 Mamma mia 260 Telefilm Tantissimo E come hai vissuto Tutto il momento Del saluto Di Terence Hill Alla stagione Lì è stata Veramente una roba Umanamente Ma anche professionalmente Mi è spiaciuto moltissimo Però lui È una scelta sua Quindi Beh lo ha scelto lui Ma ti ricordi Ve ne ha parlato Ho detto ragazzi Sì 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 Perché lui voleva fare Solo Lui voleva fare Come Montalbano Invece di fare Perché Montalbano Che è un successo lungo Come il nostro Ma il numero Come qualità Ottima Però come quantità Noi siamo Di più Perché noi Non facciamo Loro fanno Quattro puntate In un anno Lui voleva fare uguale Cioè nel senso Si riposava di più Faceva Quattro film E poi Ok Invece facciamo 20 Boom 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 E quindi Ci sono stati anni Dove Tra Quest'anno È stato lungo Abbastanza Però Ci sono stati anni Dove Tra un Don Matteo E l'altro Passavano tre mesi Perché questo è successo Cominciarono a scrivere Ora invece passano Tutti Certo E gli è mai capitato Lunga la strada Di dire Vabbè dai Io mi prendo una pausa No Sai perché Perché mi hanno sempre Premiato Inventanti Cioè in ogni puntata Hanno sempre pensato A me Come uomo Come borghese Come marisciaro Come uomo Anche Per cui Mi facevano fare Sempre interrogatori Andare a chiappare L'assassino Mettevano un altro Invece così Mi sono divertendo Mi sto divertendo E poi sai Il quotidiano È infinito Mentre Gli omicidi Prima o poi Finiscono Poi si ripetono Tranne lì Che in quella zona Comunque ne succedono Di ogni Ragazzi Una zona Con un altissimo Tasso Perché abbiamo ammazzato Tutti Esatto Non c'è più nessuno Appena ammazziamo Quelli di Spoleto Ci rasferiamo Ad Assisi Può succedere Anche quello Poi l'altra cosa Che fai Che mi fa Un sacco ridere La vedevo ieri sera Non so quando andrà In onda La puntata di Preciso Però arriviamo È un lunedì In questo momento Quindi ieri sera Sei stato ospite Oggi diciamo Oggi è Il 6 agosto 2001 Andava detto Infatti guarda Sto morendo di caldo Che abbiamo fatto 2001 Quando andrà in onda Tra due anni Fra un po' di più Facci caldo da sole Un po' di più Però Quando è nata Invece La collaborazione Con Fazio Che tempo che fa Novella bella Fa spaccare Io ho avuto L'intuizione Perché io Con lui facevo I quiz Quando lui faceva Io ho iniziato Intanto ho iniziato Che sono andato Ospite a presentare Un libro Precedente Due libri precedenti O tre Non un romanzo Perché questo è il primo romanzo Altri libri Sono andato E abbiamo riso Lui e altro Sono presentato Questo libro Cazzate E ho detto Perché non torneresti domenica Perché poi si fa a Milano Eh certo Ma io abito a Roma Io vengo a Milano Non sto a Milano E allora Quasi per pigrizia Però la commissione è importante No? Va bene vengo Lui mi piace Va bene vengo Fabio E ho fatto seconda Torneresti Senti ma se tu vuoi Vanno scritturato Da ospite così Occasionale A anni di contratti E via E allora serviva Che inventasse Lui preparava Faceva pure Parallelamente Faceva il rischiadutto Ah è vero E allora io facevo La parodia del suo rischiadutto Facendo dei quiz E la attingevo Dalla radio Perché c'è molto repertorio Radio Radiofonico Sui quiz Avevo i miei attori E ho fatto un sacco di puntate Poi mi serviva Inventarmi qualcosa Che potessi parlare Un po' di tutto E il trucco È proprio nel Nel giornale Perché un giornale Se tu vuoi parlare È una battuta di calcio Che fa ridere La metti Se puoi parlare di gossip La metti Se puoi parlare di V Lo metti dentro È un contenitore Sì Che ti permette di fare Battute su tutto Di fare tante cose E poi mi sono Man mano Perché l'ho correttato Mi sono mettato Il leggio Sì sì Fa sempre un sacco ridere Per fare un mondo È quello Un mondo fatto anche di personaggi E tra cui Devo dire la verità Da faccio sono molto avvantaggiato Quando c'è il tavolo Perché già il tavolo È pronto Mentre le altre trasmissioni Sono completamente diverse Arrivavo io E creavo Un mondo nuovo In un mondo Che era totalmente diverso da me Devo dire la verità Che da faccio È ancora più comodo Perché c'è il tavolo Già tutto spiritoso Tutte cose C'è già un clima Che fa ridere Quindi è bello Il tavolo è bello Arrivo io Mi faccio il mio pezzo Ma non ho bisogno Neanche di creare Il momento Anche perché poi Comunque è sempre Il contenitore Che un po' si adegua A te Non sei tu che ti adegui Al No sono io che mi adeguo No sì Ti adegui però Diciamo il tuo Essere frassica Lo è in ogni In ogni forma Mi chiamano Quello faccio E no A proposito di personaggi E di mondi C'è che lo facevi tantissimo Anche in radio Durante il programmone La collaborazione La collaborazione Con Francesco Si chiama Il tuo collaboratore Con il quale faccio Quando faccio Degli spettacoli teatrali Al teatro E allora lo chiamo E viene Facciamo scherzi Improvvisiamo Ma lì come è nata Questa cosa tra di voi Perché lì sei proprio Tu che lo tratti male Sì Perché nella comicità C'è sempre La vittima E il carnefici Nel caso nostro Io sono carnefici Ma anche come Come genere Sono quello che Lo schiaffo lo dà Non lo ricevo Cioè al contrario Di Fantozza Fantozza riceve Gli schiaffi Per dire Io sono quello Che ci sono Chi lo dà Sono anche comici Che li vedi meglio Che fanno Cattivi O fessi Ok Diciamo I comici Io sono Cattivi Quello che lo fa Del male Non faccio ridere Se prendo uno schiaffo Io Oppure potrebbe far ridere Però fa più ridere Quando lo do Anche perché mi piace Di più Sì Devo dire che È comunque meglio È sempre meglio Quindi E con lui Con lui Lo vittimizzo Ci troviamo Poi Io lo scali Lo conosco Da Più di tutti Aspetta Facevo io Quando facevo La radio con Arbore Addirittura Perché lui abitava Io avevo Stavo in una pensione In Piazza Vittorio Si chiamava Taormina Penso Poi per stare Abbiamo questa pensioncina E lui era nella zona Passava C'era l'attore Allora Me l'ha presentato Un amico comune Ho legato Ho visto subito Che era spiritoso E siamo diventati amici Allora A parlare Di che parliamo E diventa Cioè immagino Anche se andate fuori A mangiare Nasce anche così Cioè 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 Ci arriviamo È fortissima Sta cosa E tra tutte le cose Che Cioè ne hai fatte Veramente un sacco Eccetera C'è ancora una cosa Che non hai fatto E che vorresti fare Ma io vorrei fare E che poi mi stanco L'ho chiesto qualche volta Io vorrei fare Una sitcom Una sitcom Col mio metodo Dell'improvvisazione Cioè Vai là Il copione Poco copione Poco copione E fai E reciti Però Con la comicità Del varietà Con la comicità Di Raimondo E Sandra O Camera Cafè Sai quelle cose Dove fanno ridere i testi I testi Non ci sono Quasi diventano secondari Cioè c'è una traccia E poi Come faceva Totò Totò Partiva Scriviamo una lettera Non mica era scritta Era scritta Totò Arrivava in un posto E combinava una cosa La stessa cosa Stalle Olio Non è che Avevano grande bisogno Facciamo i tassisti E fanno ridere Facciamo i gladiatori E fanno ridere Noi roviniamo Siamo dei vandali Che roviniamo Quello che Quello che facciamo Quindi Inventiamo E Un tipo di Sitcom Che non credo sia Fazzare Ma l'unica cosa simile Con il concetto di improvvisazione Che viene in mente a me Quando alle Franz Facevano quella cosa Buona alla prima Sì Con una voce Che suggeriva delle cose Loro dovevano improvvisare È comunque una cosa diversa Però c'era il concetto Si sapeva quasi di gioco Si dava un po' quell'idea Si sapeva di gioco Cosa di cose Era importante scoprire Sta cosa No no Invece Io vorrei fare Con la tecnica Cioè Il regista deve essere Tipo cinematografico Il regista deve essere cinematografico Ok Sì si deve essere Però Quello che Come si svolge Il set Mette l'azione Dentro E con la Come la verità Beh adesso Con tutte le nuove piattaforme Che ci sono Può succedere Anche questo Come lo vivi Questo grande cambiamento Che c'è adesso C'è la televisione Ma c'è anche Netflix C'è Amazon C'è Tutto buono per noi Per la categoria Ottimo C'è nuovi Ancora Offerte di lavoro Beh si Ci sono molte più produzioni Io molte cose Non riesco a fare Perché quando attacco Con Don Matteo Devo stare fermo Però Ci sono mille offerte Anche la comicità Sta vivendo un nuovo momento Nel senso che La comicità Adesso Con tutta la generazione Da Valerio A Luca Ravenna Insomma Tutta gente Che va sul palco E sta riempiendo Anche i teatri Con La stand up comedian Tu come Sei andato E mi hai visto Ti piace Mi piace Sono molto spinto A volte sono molto Osano troppo Là c'è un fatto Di gusto A volte Per esempio Lo scherzo Che ti posso dire Chi scherza sui ciechi A me non mi fanno ridere Quando c'è un dolore profondo Non mi fa ridere Non è che Li condannano Non lo possono fare Quello che vogliono Ma a gusti Io non sono per la censura Niente censura Però come gusto Io Se è quello Mi fa ridere Con il cielo Io so che c'è un cieco vero Non mi fa più ridere Perché mi mette Di pessimo umore Capito Allora Quella comicità Così Quando si fa La comicità Sui Sulle cose Normali Mi piace C'è il black humor Quello che è così Un po' troppo Black humor c'è un limite E ti è mai capitato Invece Che qualcuno Magari anche tanti anni fa Non lo so Ti dicesse Che quella battuta Non la potevi fare O quella cosa No no Mi censuro da solo Ah da solo Ok Mi censuro da solo Fa ridere Poi Mi censuro Quando È troppo alta A volte La mi spiace Perché dico Questa qua Redono due No ma intanto Le mollo Sì Ma c'è Tu le testi Hai un modo per testare Gli sketch Le battute Io sento le risate No ma Non c'è qualcuno Che tu dici Io gliela dici Sei tu te stesso Beh Un po' lo capisco Poi lo provo Ma la che fa Quel genere Lo abbandona Cioè Quando è troppo So che So che non rideranno In molti No Però Va bene lo stesso Ci sono quelli che Due tre li becchi Certo Per esempio Ieri hanno riso Lo schicci di ieri Sì Parliamo di un famoso ieri Faceva ridere Cosa di Sanremo Ma io durante Il tavolo C'era Un baldo pantani Chiaro Grande Io Mi venivo così Improvvisato Lui faceva le imitazioni Fabio diceva Immita Annuncia sta cosa Con la voce Di Lapo E lui faceva ridere Perché è bravo Mi fai la voce Di Ettore Fiera Mosca A me Quella Mi fa ridere Molto più Di quelle È passata Inosservata No no Tu hai riso adesso Perché l'ho Ce l'hai contestualizzata E hai creato il contorno Ho creato la cosa Ti ho detto Però io l'ho detto La cosa Stiamo passando E non è che Forse sono stati Però per me A volte Quella Mi fa ridere Magari siamo in tre Che abbiamo riso Ovviamente non al tuo livello Però ad esempio In radio mi capita spesso Di fare queste battute Molto sul nonsense Però dipende molto Da chi c'è vicino a me Cioè se la persona Vicino a me Mi dà corda Allora quella cosa Funziona Conta l'attenzione Se non sta attento Perché a volte Non si sta attento Cioè Uno lo pensa E arriva tardi Capito Certo Tu la senti Cioè a che E ti fa ridere E via Ma molte cose si perdono Di comicità Per esempio nel mio genere Io ne faccio una Una dopo l'altra Sono alcune Passano inosservate Alcune Quelle più grosse Fanno ridere Beh fantastico L'ultimissima cosa Che ti avranno Magari già chiesto Probabilmente Hai un consiglio A chi si approccia A voler fare Non dico un percorso Come il tuo Perché è impossibile Per tutta una serie di motivi Però Questo mestiere Anche non deve entrare In concorrenza Esatto Non daglielo troppo buono Il consiglio Io lo svio Depistalo Vai dall'altra parte No ma secondo me Provare Io Quello che consiglio Di solito Ai giovani Cosa c'era Quando me lo chiedono E Consiglio Di non sentire Alcun consiglio E di seguire gli stili Quello è il consiglio Il consiglio Di leggere Paola Una storia vera Neanche il mio No però Però seriamente Consiglio di provare A capire Dove si è più forte Perché spesso si è dispersivi Uno vuole fare Il bassista Il Poi vuole suonare la chitarra Vuole fare il cantautore Le vignette L'attore drammatico L'attore comico Vuole fare Il modello Le sfilate Caspita Trova quello Per cui tu sei forte Puoi fare pure Non è che Però devi Studiare Studiare te stesso Cioè capito Io sono forte qua Io insisto qua E' successo su di me Io facevo Facevo pure I resital Di poesia Mille sono Più bravi di me Un milione Sono più bravi Facevo la prosa normale Ho fatto il teatro Espressionista Ho fatto Presentatore di defilè Ho fatto mille cose Ed ero Perché Devo guadagnare Però Ho capito Che la comicità E questo tipo di comicità Ero forte in quello Allora ho puntato su quello Fino a Poi mi è andata bene E il rapporto con i Andavo Venivo a Roma E volevo fare L'attore dal Cino Chissà Magari facciamo Una piccola parte là Che serve Invece devi trovare Una roba In cui far la differenza Certo E essere specializzato In quello E il rapporto Con chi ti segue Con il tuo pubblico C'è qualcosa Che hanno fatto per te Di incredibile La più bella soddisfazione L'ho avuto una volta Io facevo Radio anche noi E facevo Delle Rubriche Raccontato A un certo punto Un'altra vado A Vulcano Entro in un pub A un certo punto Sento la mia voce Alla radio Un pezzo E ho detto Ma non vai Non da quest'ora Perché non era l'orario Era Non mai vai Non da quest'ora Su che c'è qua Perché io Non ero Facevo la radio Non ero conoscendo La radio Non c'è La faccia Non è come ora Poi subito dopo un altro Il mio Ho detto Ma che due scherzi Dopo un poco Vedo che dei ragazzi Avevano Sei con il registratore Del coso Raccolto Tutti i miei scherzi E se li stavano sentendo Con il proprietario Che all'epoca Era molto complicata Da fare come cosa Ho detto Caspita Ma che Che cosa è sta cosa qua Che bello Una medaglia Per me era Avevo capito Qualcuno A qualcuno piaceva Qualcuno Avevo Aveva acchiappato Un tipo di Erano dei ragazzi L'altra medaglia Ho letto Che è La figlia di Dottò Che ha detto Che suo padre Con chi Con chi E riderebbe Suo padre Se fosse vivo Con Frassica Una medaglia Mamma mia Bomba Grazie davvero Per noi è una medaglia gigante Che tu sia venuto qui A raccontare tutto questo È stato un onore gigante E niente Ci ribecchiamo Quando uscirà Perché è il 2001 Ricordiamolo Quindi Quando vai in onda Tra due anni Penso 2023 Almeno Almeno Adesso dobbiamo capire il mese Il 6 Vai in onda Il 6 Ma non abbiamo detto il titolo No Paola Una storia vera L'abbiamo detto Ma io lo ripeterei Paola una storia vera E la copertina È importante Quindi giudicatelo Sia dalla copertina Che da quello che c'è Che c'è scritto dentro Però la pagina finale L'hai strappata In questo L'hai tenuta Anche in questo Va bene Non perdetelo Grazie davvero Ciao Buon appetito Sì Nel dubbio Depistiamo Depistiamo Grazie a tutti Grazie a tutti